Quando alla scorsa puntata ti sei commosso quando mi hai salutata, mi sono messa a piangere anche io. Veramente, mi manchi tantissimo. E poi è stranissimo stare a casa senza di te, non averti più intorno e non poterti più chiamare ogni volta che mi va. Mi mancano anche tutte le nostre litigate quando mi spieghi matematica, oppure tutte le volte che mi arrabbio con te perché non puoi venirmi a prendere il nuoto con la macchina. Tu sei sempre stato un esempio per me, infatti ogni volta che ti chiedo un consiglio sei sempre a darmi la risposta giusta. E non so come fai, per questo sei una persona speciale per me e riesci sempre a capire quando sono triste e quando sono felice. Non te lo dico molto spesso, ma veramente ti voglio un mondo di bene. E infatti non te lo dico spesso perché mi vergogno, ma questa è proprio l'occasione giusta. Per quanto riguarda mamma, cerca di sopportarla perché sappiamo com'è fatta. Anzi, ne approfitto per salutarla. Ciao mamma! E per la scuola non ti preoccupare che me la cavo. E niente, Ale, ti voglio tanto bene! E per la scuola non ti preoccupare che me la cavo. E per la scuola non ti preoccupare che me la cavo.